Nessuno conosce la vittoria meglio di Novak Djokovic, campione nello sport e nella vita. Col suo coraggioso esempio, ispirato certamente dalla sua fede cristiana, ha mostrato al mondo intero che pur avendo moltitudini contrarie si può proseguire e vincere, restando fermo sui propri principi, poiché la libertà, la verità e la dignità umana trionfano sempre sul male e sull'oppressione. Novak ha dimostrato cosa significa essere veri campioni, sul campo e fuori. Dio benedica tutti quegli sportivi, quegli atleti che testimoniano di Cristo con la loro vita e coi loro gesti e sono un esempio per le nuove generazioni sempre più disorientate dall'uoto del conformismo e da nulla valoriale dei nostri tempi.